Questa sera abbiamo la proiezione del Miracolo dei Re. Il Miracolo dei Re racconta la storia straordinaria della colonia penale di Castiades, dove durante 75 anni ci sono stati migliaia di prigionieri che hanno fatto un lavoro incredibile di bonificazione di questa zona, dove cresce Soshiki. Allora, è una cosa che si deve sapere, durante più di 5 secoli questa zona è stata totalmente abbandonata perché c'era la malaria, c'era la peste. Il governo italiano in 1875 o qualcosa così ha deciso di creare questa colonia penale dove ci sono venuti tanti prigionieri per fare un lavoro unico in Italia di bonificazione. E grazie a questo la terra è diventata una terra straordinariamente fertile e si può fare della grande agricoltura e della vigna. E dunque questo film racconta un po' l'origine della zona viticola di Castiades.